ben trovati ragazzi allora in questo video svolgeremo un integrale triplo allora l'integrale è l'integrale sul dominio d di x quadro più y quadro più z quadro in dx dy dz quindi questa rappresenta ovviamente una sfera sul dominio d fatto in questo modo abbiamo x quadro più y quadro minore uguale di z quadro e z ovviamente compreso fra meno 1 e 2 allora ragioniamo ragazzi questa diseguaglianza rappresenta un cono ok c'è un cono a doppia falda perché osservate un attimo se io vado ad esplicitare no z abbiamo z uguale a più o meno ovviamente la radice quadrata di x quadro più y quadro ok quindi questa rappresenta appunto un la figura di un cono nello spazio più è la parte al di sopra del piano x y meno invece è la parte al di sotto però attenzione che mi dice z è compreso quindi z è compreso fra meno 1 e ovviamente 2 quindi il cono di nostro il cono doppia falda di nostro interesse appunto questo quello che va da questa insomma da questo piano non piano z uguale a 2 al piano z uguale a meno 1 allora osservate un attimo in questo caso non è necessario passare in coordinate sferiche perché non abbiamo un angolo che varia no fra z ecco cioè il cono è questo quindi io devo fare soltanto un giro completo dell'angolo teta fra 0 e 2 pi greco e quindi in questo caso non avrei nemmeno limitazioni quindi passando alle coordinate cilindriche in questo caso abbiamo x uguale a rho cosenteta y uguale a rho cosenteta e z ovviamente uguale a z perché z varia fra due costanti c'è meno 1 e 2 quindi con z appartenente ad r ovviamente come al solito il nostro rho il nostro raggio è maggiore uguale a 0 l'angolo teta fra 0 e 2 pi greco e lo jacobiano è uguale invece a è uguale a rho quindi andando a richiamare il nostro dominio cosa abbiamo beh abbiamo che x quadro più y quadro minore uguale di z quadro sarebbe rho quadro minore uguale a z in definitiva rho minore uguale al valore assoluto di z perché sarebbe la radice quadrata di z quadro che appunto il valore assoluto di z e ovviamente andando a considerare il valore il valore assoluto abbiamo rho che sarà compreso fra 0 e meno z e rho compreso fra 0 e z ma d'altronde ragazzi la grafica ci aiuta come al solito perché ripeto la matematica è vanitosa vuole essere vista e allora guardate un attimo rho che il nostro raggio per la parte negativa ok perché z varia fra meno 1 e 2 quindi fra meno 1 e 0 il nostro varia fra 0 e meno z ok ma questi sono calcoli che poi diciamo algebricamente ci tornano anche dalla questa disequazione in valore assoluto quindi ero compreso fra 0 e meno z per la parte positiva invece abbiamo lo che compreso c'è il raggio questo raggio che compreso fra 0 e z ok perché qui z e appunto o positivo quindi perché tra 0 e z 0 e meno z perché ovviamente come vedete il raggio no considerando questo o questo cono a doppia falda ovviamente varia in funzione della quota di z è chiaro e quindi ecco la cosa varia il nostro ovviamente zeta già ce l'abbiamo bello pronto e impacchettato che varia fra meno 1 e 2 e l'angolo teta non abbiamo problemi quindi fra 0 e 2 e 2 pi greco e allora il nostro integrale di partenza c'è questa questo c'è la funzione integranda diventa con le opportune sostituzioni rho quadro più z quadro per rho in d rho dove ro ovviamente rappresenta lo jacobiano in d rho in d teta e in d z ovviamente abbiamo l'integrale fra 0 e 2 pi greco tutto in d teta per integrale fra meno 1 e 0 in d z anzi chiedo scusa prima di fare questo discorso ho spezzettato questo integrale in due integrali cioè la parte che va tra 0 e meno z perché stiamo parlando del cono che sta al di sotto del piano x y ok quindi varia fra 0 e meno z che è questo ovviamente ovviamente in d rho e poi sempre lo stesso integrale però con rho che varia fra 0 e z il nostro raggio che varia fra 0 e z per quanto riguarda la parte del cono al di sopra del piano x y e quindi a questo punto come ho anche scritto qui sotto per come si presenta la funzione integrale dobbiamo ulteriormente spezzare i singoli integrali in altri due integrali va bene perché abbiamo rho quadro più zera quadro quindi per la proprietà di linearità degli integrali questo integrale lo spezzo poi in altri due integrali cioè avrei quattro integrali però questo ad essere proprio pignoli in realtà io posso anche integrare la funzione più interna in d rho considerando zera come una costante in effetti noi che cosa avremo svolgiamo il primo integrale allora andando a risolvere l'integrale più interno di in d rho ovviamente abbiamo andando a moltiplicare avremo rho al cubo più z quadro per rho in d rho se vado a svolgere l'integrale più interno questo sarà rho alla quarta fratto 4 zeta quadro la considero una costante per rho alla seconda fratto 2 tutto da calcolare fra 0 e meno zeta perché stiamo considerando appunto l'integrale del cono della parte di cono al di sotto del piano x y beh ovviamente qui il gioco è fatto si tratta di integrali molto ma molto semplici banali perché ripeto la difficoltà negli integrali tripli sta nel loro dominio e non nella risoluzione dell'integrale in se pensi perché l'integrale poi diventa semplice elementare quindi in definitiva andando a sostituire da prima meno zeta alla nostra rho e poi 0 avremo questa quantità questa quantità ovviamente che noi andremo a integrare rispetto a zeta quindi in d zeta e quindi questo sarà 3 zeta alla quinta fratto 4 per 5 che è appunto 20 ovviamente calcolare fra 0 e meno 1 andando a sostituire da prima 0 e poi meno 1 ovviamente avremo integrale fra 0 e 2 pi greco questa quantità dal calcolo di questa quantità viene fuori 3 ventesimi in d zeta ossia 3 ventesimi teta da calcolare tra 2 pi greco e 0 il tutto sarà uguale a 3 decimi pi greco per il secondo integrale ragazzi faccio gli stessi calcoli è inutile ripetere gli stessi calcoli e quindi alla fine il risultato sarà 48 quinti pi greco quindi andando a sommare 3 decimi pi greco più 48 quinti pi greco avremo 99 decimi pi greco che è proprio l'ipervolume che si cercava dalla risoluzione di questo integrale triplo ragazzi io spero di essere stato chiaro e arrivederci al prossimo video